Siamo di nuovo in diretta per Primo Cittadino, come abbiamo annunciato nel corso del telegiornale, do subito il benvenuto a Sindaco di Fano Massimo Seri. Bentornato Sindaco. Grazie e buonasera a tutti. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi per lei, alcuni in questi ultimi minuti, altri nei giorni scorsi. Abbiamo già delle telefonate, persone che vogliono mettersi in contatto con lei, abbiamo già tante risposte da poter dare ai nostri telespettatori. Visto che ci sono arrivati tanti messaggi al 338 49 68 250, andrei subito a leggerli. Partiamo dall'ultimo. Le chiedo di sollecitare Enel Green Power che intervenga velocemente per il taglio delle canne nel Canale Albani, nel tratto di via Canale Albani fino all'ingresso dell'autostrada. In molti ci hanno segnalato questo problema di sfalcio dell'erba un po' in tutta la città. Pensa che Aset possa intervenire in questi giorni? Beh, Aset ha il suo programma e va detto, questo va riconosciuto, che in questi anni ha fatto un ottimo lavoro perché ovviamente le cose possono essere sempre migliorate, ma se ci confrontiamo a qualche anno fa, insomma, a quando sono diventato sindaco e guardiamo, la realtà oggi è completamente cambiata. Poi è chiaro che non è che ogni giorno si possa andare a tagliare l'erba e questa fase è una fase un po' più critica perché c'è il sole, un po' di acqua, l'erba tende a crescere velocemente, però insomma ci sono tutti i tagli già programmati e quello mi fa stare abbastanza tranquillo. Per quello che riguarda Enel Green Power va detto che insomma la collaborazione è ottima e ogni nostra sollecitazione hanno sempre dato risposte adeguate. Adesso provvederemo a risegnalare questa cosa, ma penso sia una questione di tempi perché insomma si programma un certo numero di tagli nell'arco di tutta l'estate e ovviamente li stanno ponderando per ottimizzarli. Un messaggio, andiamo nei passeggi, regia. Ai passeggi in prossimità del chiosco di Omnia sono presenti dei mattoni con cui giocano i bambini ma sono molto pericolosi. Ci hanno scritto, sono di proprietà del comune, vanno rimossi e anche il prima possibile perché ci sono diversi bambini che si sono fatti male. Anche questa è una segnalazione importante. Tanti altri fanesi ci chiedono quando verranno eseguiti i lavori sul lungomare in particolare in zona Sassonia. Sul lungomare intanto bisogna capire a cosa ci si riferisce. Noi stiamo elaborando un progetto molto importante che in qualche modo diventa il progetto faro di questo mio secondo mandato come magari il primo mandato può essere stato i lavori del Pincio con il cosiddetto waterfront sia per la parte a nord del fiume Metauro sia la parte a sud. Stiamo già facendo gli incontri e abbiamo già dato l'indicazione per le progettazioni. A brevissimo faremo degli incontri anche con tutti gli operatori, con i cittadini per raccontare, dare le prime linee, per confrontarci, per raccogliere anche osservazioni. L'obiettivo è quello di fare gli interventi entro primavera 2024. Ovviamente sono lavori importanti che qualificheranno molto quella zona del lungomare perché non dimentichiamo che abbiamo un lungomare lungo per quello che riguarda a nord del Metauro che dialoga con il centro storico, quello a sud che ha bisogno perché onestamente negli ultimi decenni non ha avuto interventi importanti quindi questa è una grande occasione per recuperare e risalire le classifiche di gradimento di quella zona, che è una zona ad alta densità di recezione turistica. Su tutta la parte di Fano Sud sono veramente destinate moltissime risorse e molti progetti a cominciare dalle piste ciclabili alle riqualificazioni lungomare. In parte alcune le abbiamo già realizzate ma anche interventi a monte della ferrovia con le riqualificazioni. Insomma sono veramente tanti interventi. Anticipo una domanda, magari qualcuno lo può fare per quello che riguarda la zona di Ponte Sasso per tutto il problema dell'emergenza che c'era stata con il maltempo. Io ho preso un impegno all'Assemblea che avrei dato un incarico per fare un'analisi e sarei tornato a convoccare un'Assemblea e a riferire. Bene, posso dire che il lavoro è quasi terminato. Sto programmando per la metà di maggio in base ad alcuni appuntamenti che ho perché ho delle giornate un po' impegnative e quindi intorno al 20, penso, giorno più giorno meno, di poter programmare un'Assemblea e riferire il risultato di questo lavoro importante ma soprattutto quelle che sono le prospettive anche di interventi e le cose che andrebbero fatte e dove reperire anche risorse dove l'amministrazione comunale non riesce ad arrivare. Asfalti, Sindaco. Ci segnalano via Meda, via Turati, il parcheggio degli ex carri di Carnevale dove sono presenti diverse buche. Questo messaggio diretto al Sindaco, un altro che riguarda gli asfalti. Ho controllato la lista delle vie programmate per l'asfaltatura e ho visto che è in programma via Ferriano-Sant'Angelo e che i lavori sarebbero dovuti iniziare in questo periodo. Dovrei sapere quando inizieranno questi lavori di asfaltatura e in questa strada, come già segnalato, non si passa più. Sì, sono tanti gli asfalti che devono essere realizzati. Abbiamo, come abbiamo annunciato anche da queste telecamere, 3 milioni e 7 che dovevano essere già partiti perché dovevano partire entro il mese di aprile. Dico purtroppo, con il caro carburante, la ditta sta temporeggiando. Adesso i prossimi giorni ci sarà un incontro perché stanno reclamando che i prezzi che sono stati pattuiti dal bando non sono più adeguati e quindi non stanno dando corso ai lavori. Altrimenti sarebbero già partiti e avreste già visto i mezzi all'opera. Quindi mi sembra mercoledì, doveva essere in programma, ma poi dirigente positivo in casa, anzi gli faccio gli auguri. Però sta aspettando il tampone tra domani e dopodomani, quindi auspichiamo la negatività che possa fare questo incontro sperando di poter sbloccare e far partire i lavori. Contemporaneamente c'era un'altra partita che fortunatamente non deve avere un nuovo bando perché lì abbiamo fatto un accordo quadro, c'è già il vincitore che sono ditte fra l'altro tutte queste della zona e stanno elaborando il progetto per gli altri quasi 3 milioni di euro per altri asfalti che anche questi dovevano essere realizzati almeno iniziati durante l'estate, ma in questo caso siamo in grado di poter intervenire anche con il caro carburante perché siamo in procinto di elaborazione. Per cui sono preoccupato perché avete visto il problema non di Fano ma di un po' nazionale, tanti lavori sono bloccati proprio per l'aumento dei prezzi. L'altro esempio che doveva essere partita la caserma di Gio e Fuoco è quella bloccata, adesso abbiamo dato la disdetta alla ditta per passare alla seconda, ma il problema sarà anche per la seconda, il rischio che dovremo rinnovare la gara e ridialogare col Ministero per avere ulteriori finanziamenti che vadano a integrare questi che avevamo previsto. Quindi il problema oggi è quello delle ditte intanto perché i lavori in giro sono tanti e non ci sono più tantissime ditte disponibili, anche la fornitura di materiali, tanto per citare un esempio, Fenile, la pista ciclabile di Fenile, deve essere illuminata, anche lì dovevano i lavori essere già partiti, ma la ditta è dovuta rallentare perché non gli arrivavano i palli, però fortunatamente sono arrivati, quindi partiranno penso la settimana prossima. A proposito di ditte, ci mandano un messaggio per la Darsena, in merito alla Darsena Borghese, visti i tempi lunghissimi per sistemarle e quelle brutte reti che ne impediscono l'accesso, perché non riaprire al pubblico almeno la parte iniziale già sistemata in precedenza? Sì, anche qui va detto che non è un problema di tempi lunghissimi, purtroppo c'è stato un tragico incidente che il titolare della ditta che faceva i lavori in un incidente è deceduto e si è fermato il lavoro. Ci sono gli eredi, adesso stiamo chiudendo con gli eredi, perché il lavoro rimasto è poco, i lavori devono essere già terminati da molto tempo, quindi abbiamo già verificato tutto l'iter e per l'estate i lavori penso che saranno finiti. A proposito di asfaltatura, siccome ci stanno chiedendo varie zone della città, ad esempio anche Montegiove, si ricorda qualche strada o qualche parcheggio? Beh, sono tantissime, quella zona di Montegiove sono tante le strade lì previste, a Ceda, a Fano Sud, un po' in tutti i quartieri, con sia quello già appaltato, sia con quello... Soprattutto le osservazioni anche avvenute da queste telecamere sono state tutte inserite nel programma, anche alcune strade importanti, come nella zona industriale, ovviamente quelle sono strade che solo una... è quasi metà dell'intervento per cui non potremo farle tutte, ma anche lì alcuni interventi ci saranno. Credo che abbiamo una persona pronta al telefono, è giusto regia? Buonasera, chi c'è in linea? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera signor Sindaco, mi chiamo Giovanni, mi chiamo D'Apano, volevo sollevare il problema della vittoria a Colonna, che praticamente hanno diventato il passaggio principale, hanno tagliato il lucchetto, è sempre un via vai di gente poco raccomandabile, in più la stazionata della ringhiera è stata abbattuta, è un continuo via vai, so che della competenza dell'Inx, lo stabile, se può intervenire che con 300-400 euro si metta a posto tutto. Sì, la ringrazio, fra l'altro l'avevamo presente, l'abbiamo già segnalato, come veniva detto, quello non è un bene di proprietà dell'amministrazione comunale, ma è in capo al patrimonio dell'Inx, addirittura destinato ad un fondo di valorizzazione, però devo dire l'Inx è intervenuta in più occasioni anche all'interno, facendo delle opere di manutenzione, anche pur non essendo utilizzato. Purtroppo alcuni sono entrati, qualcuno ci è andato a dormire di notte, ovviamente per entrare hanno forzato, noi l'abbiamo segnalato, adesso magari mi prendo l'appunto e rinnoverò la segnalazione ai responsabili del patrimonio Inx. Altri due messaggi, Sindaco, è possibile cambiare l'orario di chiusura dei cimiteri, cioè a maggio chiudere alle 19, le chiedono anziché alle 18 e adattarsi a Fossombrone, che nei mesi estivi chiuda alle ore 20. Un'ora in più sarebbe utile per tante persone che finiscono di lavorare, ci hanno detto, verso le 19, 19 e 30. Quindi questo. Poi per i sottopassi, un altro telespettatore ci dice, visto che i lavori sono terminati, riuscite a fare aprire entro maggio almeno uno dei due sottopassi di Viale Piceno senza dover attendere l'apertura della futura COP, così da contentare i residenti dopo i tanti disagi subiti a causa dei lavori? Sì, intanto anche la nuova struttura verrà inaugurata in quest'estate, adesso nel mese di luglio. In ogni caso uno dei due verrà aperto, è pronto, mentre l'altro aveva delle problematiche non tanto per la realizzazione quanto per dei sottoservizi che si intrecciavano, interferivano nei lavori, però posso assicurare che uno dei due, prima dell'apertura della struttura della COP verrà aperto. Adesso non chiedetemi quando di preciso, non ve lo so dire, però l'ho richiesto anch'io perché è funzionale per quelli che abitano in quella zona, è un accesso comodo, sicuro, per arrivare al mare, sapendo che quella è una zona molto frequentata, quindi è veramente utile. Due segnalazioni di degrado. La prima al vallato, ci dicono che ci sono aree verdi, bisognose dello sfalcio dell'erba, marciapiedi anche con sbarri di ferro che sbucano dal cemento, ci hanno inviato alcune fotografie, anche tante altre ce ne stanno arrivando, però in questo momento siamo in diretta e quindi non riusciamo a prepararle al volo. Magari quando è così, inviatecele nel pomeriggio o comunque i giorni prima. L'altra, qui ce l'abbiamo, credo regia, al parco, lo skate park in via Soncino, incuria sporcizia, arredi rotti, erba alte, scritte ovunque ci hanno scritto, o per qualcuno espressioni artistiche, altro che città dei bambini. Questi che vanno a cartoni di birra, ha commentato il reporter di strada, sono adolescenti più grandi, maleducati e non controllati, non servono altri progetti di verde pubblico, se non sei capace di governare e di gestire quelli che abbiamo nella nostra città. Sindaco, che cosa si può fare per evitare questo... Beh, intanto vedo i contenitori che sono pieni, quindi penso che possono essere aumentati il numero dei contenitori, o se aumenta il passaggio della raccolta, ma la vedo un po' più complicata per l'organizzazione e per i costi, mentre aumentare qualche contenitore che possa così in qualche modo evitare che cadano quando sono troppo pieni. Lì c'è un lavoro anche di educazione, di dialogo con questi giovani che va fatto, devo dire alcuni approcci ci sono già stati, sono state le iniziative, anche l'assessore alle politiche giovanili so che ha avuto degli incontri anche belli, quindi c'è una consapevolezza, effettivamente queste immagini sono eloquenti e fanno del male, anche a me fanno arrabbiare, quando non c'è questo rispetto verso il patrimonio che è di tutti, non è dell'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale siamo tutti noi, quindi c'è da una parte magari migliorare l'organizzazione della raccolta con qualche contenitore in più, dall'altra occorre anche un maggior rispetto, una maggiore educazione verso il patrimonio di tutti. Intanto ricordo ai telespettatori che se volete intervenire in diretta non dovete chiamare il numero di cellulare, perché qua leggo i messaggi, bensì l'altro, 0721 86 14 33. Dunque, andiamo avanti con i messaggi. Ex Agip, le chiedo nuovamente se ritiene la rotatore dell'ex Agip adatta a sostenere il traffico della nazionale o se invece sarebbe necessario modificarla con un metodo anche un po' più logico, non ci saranno più occasioni di spazi per migliorare quella rotatoria. Però in realtà il vostro progetto, Sindaco, penso che sia più o meno deciso, ovvero quello di lasciare un'area verde. Sì, ma adesso al di là dell'area verde, è un'area attrezzata di arredo stradale, valorizzandola, rendendola, quello è un punto cruciale, visto da tutti, come avviene in tante altre belle città, dove quegli spazi hanno una cura e rendono ancora più bello l'ingresso della città. Quindi si va in quella direzione. Il tema che pone il telespettatore è un tema serio, quello è un incrocio che raccoglie il terminale di diverse strade che si congiungono con le varie zone della città, raccolgono l'arrivo della superstrada, quindi ad alta intensità di traffico. Lì sono stati fatti diversi studi, ma c'è una sua complessità, non è soltanto un problema di spazio, ma proprio di organizzazione. Io non sono un ingegnere, però gli ingegneri abbiamo fatto tutto proprio il peso dei flussi, avevamo fatto salire anche una mongolfiera che ha registrato tutti i movimenti, da quelli pedonali, ciclabili, moto, camion, macchine, quindi c'è un'analisi chiara. Avevano fatto anche alcuni ragionamenti, anche di estensione, di spostamento, ma tutti hanno una loro complessità e c'è una difficile soluzione perché comunque in ogni caso l'intensità è tanta. Però ecco, su questo adesso stiamo affidando l'incarico per la progettazione, dentro ci sta tutto, il tema vero è anche le tempistiche perché non dimentichiamo che ancora non c'è stata consegnata quell'area bonificata perché anche ultimamente hanno trovato altre tre cisterne e quindi inevitabilmente hanno allungato ulteriormente i tempi per cui noi nel frattempo abbiamo già stanziato le risorse quindi speriamo di ricevere il trasferimento, la consegna dell'area bonificata per poter intervenire perché poi rischiamo di compromettere anche le risorse già destinate. Vicolo a Lavolini e via De Tonsis ci vogliono più controlli e magari anche qualche telecamera parlano di degrado, di persone che purtroppo fanno i bisogni durante la notte e anche di mattoni allo scoperto. Sentiamo chi c'è in linea invece. Buonasera. 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 Buonasera, io volevo fare una domanda al sindaco. Sì. Volevo chiedere chi ospita l'agente ucraina ha diritto di qualche agevolazione perché per quanto mi risulta a noi privati non ci danno niente. Mentre loro gli danno 300 euro alle mamme e 150 euro per ogni bambino. Allora la mia domanda ma con i soldi cosa ci fanno? Che sono spesati di tutto. Noi che li ospitiamo non ci danno niente. Cercare bollette sopra il consumo dell'acqua, metano, luce. Perché a noi non ci danno niente? E loro gli danno i soldi che possono andare anche in banca o alla porta possono aprire il conto 40 e gli danno i soldi. Ma che sistema è questo? Noi non ci danno niente. Abbiamo capito perfettamente. E l'aggiungo anche un'altra segnalazione. Vittorio, signor Vittorio che ospita diverse persone appunto ucraine ci chiedeva ma perché dobbiamo pagare la sovrattassa dell'acqua? Che cosa si può fare? Sì, allora noi ci siamo già mossi per questo. Intanto per rispondere al signore queste sono scelte che sono state fatte a livello nazionale che poi hanno un effetto sul territorio. Non sono risorse che mettiamo a disposizione noi come amministrazione anche perché non le avremo non riusciremo a dare risposte in questi termini. C'è da una parte un aiuto alle persone che sono qua per poter andare avanti perché ovviamente non hanno nessuna risorsa e ovviamente essendo in una casa coparteciperanno con quelle risorse che vengono attribuite magari per alcune spese vive che ci sono. Intanto vanno ringraziate tutte quelle famiglie che hanno accolto le persone e mi rendo conto che più il tempo passerà e passerà perché non è per chiudersi questa tragica vicenda della guerra perché non vedo dietro l'angolo un cessate il fuoco purtroppo e quindi ci saranno notevoli sforzi da fare ancora e il Paese il Governo dovrà inevitabilmente intervenire ma anche l'Unione Europea mettendo delle risorse in questi termini per aiutare ovviamente chi fa accoglienza a cominciare dalle famiglie perché in passato c'era quell'organizzazione che era stata tanto criticata però che funzionava e c'erano messe risorse proprio per la gestione e l'accoglienza questa è stata grazie alla generosità e alla sensibilità di tante famiglie in tutto il Paese in Fano ce ne sono state tante per cui si dovrà andare in quella edizione per sollevare il peso economico perché inevitabilmente per il passare delle settimane questo si fa sentire quindi la preoccupazione che manifestava il Signore la siamo consapevoli e anche come Sindaco negli incontri che facciamo come Sindaci con i nostri referenti la stiamo ponendo questa questione poi c'è l'altro tema il rischio poi c'è anche la beffa che magari accogliamo inevitabilmente come quella persona che l'ha segnalato con cui ho avuto modo di parlare anch'io che accoglie sei persone dice io sono sovraconsumo dell'acqua e rischio di pagare una sovra quota e ha perfettamente ragione quindi abbiamo già parlato sia con Aset però il tema non dipende da Aset ma da lato e sulla quale stiamo ragionando come intervenire per evitare questo poi altri provvedimenti potranno essere presi però su questo ancora materialmente non c'è nulla ma ovviamente per quello che ci riguarda faremo di tutto per evitare che ci possano essere appesantimenti che sarebbero ingiustificati e ingiusti Le chiedono aggiornamenti su due temi molto importanti l'arretramento della ferrovia e poi la ciclabile Fano-Senigallia Sì allora il tema dell'arretramento della ferrovia è un tema delicato anche di scontro io dico questo l'arretramento è una grande occasione per questo territorio non per una città o l'altra perché può cambiare le sorti le prospettive le opportunità anche in termini non solo di trasporto ma anche in termini economici se pensiamo a come è organizzata la nostra città il nostro centro al nostro lungomare che ospita hotel quindi cosa vorrebbe dire non avere la ferrovia sulla costa qui c'è un tema e anche di scontro perché ovviamente un progetto come questo non può riguardare una città ma deve riguardare un territorio tutto il territorio regionale e per zone omogenee non possono esserci faccio un passo indietro noi nel 2017 proprio in previsione di possibili visioni perché eravamo convinti che qualcosa sarebbe accaduto nel tempo ci eravamo adoperati abbiamo sottoscritto anche un protocollo con la città di Pesaro proprio per fare un ragionamento complessivo oggi la novità rispetto al passato che ci sono 5 miliardi di risorse per l'arretramento una parte vanno per Bologna e Imola legata al tema del porto di Ravenna perché questa è la dorsale che avrà una forte concentrazione di trasporto merci l'altro è l'asse che riguarda Bari perché anche lì ovviamente c'è Gela e c'è il porto di Bari e poi c'è una parte un miliardo e due che può essere destinato nel nostro territorio e qui c'è stato un po' una fuga in avanti di Pesaro per il bypass perché lì c'è un tema un problema tecnico ovviamente parte da questa esigenza quella di ridurre le tempistiche di percorrenza e ci sono due curve due ginkan che portano a forte rallentamento e quindi c'è questa necessità però c'è un tema che noi abbiamo posto ma non è quello che abbiamo posto adesso l'abbiamo posto dal primo momento e cioè non può esistere che c'è l'arretramento del bypass di Pesaro che per carità per quello che riguarda Pesaro non mi interessa anzi se posso trovare un beneficio tanto ben venga ma questo non può ricadere sugli altri e quindi un bypass che rientra a Fossossegliore è intollerabile e quindi a tutta la nostra opposizione perché come dicevo deve riguardare tutto un territorio che guarda da Pesaro da Cattolica fino a almeno a Senigallia poi è chiaro che nel suo complesso non ci saranno mai tutte le risorse per fare un'opera complessiva si fanno per stralci ma gli stralci non possono dividere le città a metà quindi questo riguarda anche la nostra città non va bene Fossiore ma non va bene neanche rientro a Metauriglia bisogna arrivare almeno fino a Marotta per il primo stralcio quindi la necessità è quella che vengano rimpinguate le risorse e quindi il lavoro che va fatto insieme alla città di Pesaro insieme alla regione anche se abbiamo visto insomma Baldelli non è molto d'accordo beh Baldelli dice delle cose anche giuste perché io devo dire ho apprezzato il modo di lavorare coinvolgendo tutti i territori perché questa è una cosa che riguarda tutti quanti non riguarda ripeto una città rispetto a un'altra perché se nascono le competizioni ci si fa tutti del male non si arriva da nessuna parte bisogna lavorare insieme prospettare insieme e avere una visione condivisa in modo particolare Pesaro e Fano che sono due realtà che quando sono insieme portano un valore aggiunto perché diventano la prima forza della regione Marche sia in termini di abitanti ma in termini anche di forza e di capacità di promuovere dobbiamo imparare a vivere meglio il rapporto fra le due città questo lo dico perché lo vivo anch'io con sofferenza perché c'è sempre questa conflittualità che molte volte è più superficiale più anche strumentale rispetto alle sostanze vere e se ci dividiamo rischiamo di perdere delle occasioni quindi bisogna lavorare insieme bisogna avere una visione condivisa unire le forze però in una visione anche territoriale questo per quello che guarda l'elettramento l'altro? Sì, velocemente perché dobbiamo andare in pubblicità chiedevano informazioni sulla pista ciclabile Fano-Senigallia Sì, anche sulla pista ciclabile Fano-Senigallia era un impegno e abbiamo detto che questa volta invece di partire sempre dal centro verso la periferia siamo partiti dal Ponte Sasso dove è stato realizzato devo dire è un bel vedere una bella pista anche bella illuminata fra l'altro racconto un aneddoto un consigliere comunale aveva fatto un post con una foto notturna della pista di Ponte Sasso e degli amici hanno scritto ma dove sei in vacanza? e hanno detto no, sono a casa stiamo proseguendo con le progettazioni abbiamo approvato la variante sia per la parte di Torrette sia per la parte di Metauriglia e compreso anche il ponte sul Metauro ciclabile pedonale con i fondi PNNR ci sono molte risorse già destinate alla Regione che la Regione può a sua volta destinare ai comuni noi siamo mi sento di dire quasi pronti perché abbiamo già affidato tutte le progettazioni preventive su questi tratti abbiamo siglato un protocollo sia per la ciclabile del Metauro che prevede sia un ponte per il ciclabile che supererà la superstrada e il Canale Albani quindi dal parco arriverà a Sant'Orso e quello secondo me sarà un'opera molto apprezzata molto utile e anche bella e quel protocollo è previsto anche il ponte sul Metauro e quindi voi capite che quando saranno ultimate e qui veramente non parliamo di tempi lunghissimi perché le risorse ci sono veramente stiamo procedendo e secondo me questi sono interventi che nell'arco di 4-5 anni verranno tutti realizzati e voi capite quale trasformazione avrà questo nostro lungomare che da Pesaro si vendrà benissimo in sicurezza e attraversando anche percorsi belli si potrà arrivare a Senigallia attraversando tutta la nostra città quindi sono molto contento perché ci abbiamo creduto mi ci sono speso anche personalmente quindi poi è chiaro come tutte le opere vedono delle complessità delle difficoltà anche delle opposizioni perché alcune volte possono creare un disagio a qualcuno ma inevitabilmente nell'interesse generale qualche scontento ci sarà sempre cerchiamo noi di ascoltare ci sono stati molti gli incontri di poter portare anche quei correttivi che possano evitare dei disagi però nel suo insieme sarà un'opera molto importante di valore per tutto il territorio chiedono anche maggiore attenzione per il quartiere di Tombaccia e per quello di Sant'Urso tra poco parleremo anche della Rotatore di Rosciano del Teatro Romano chiedono informazioni sulla canteristica in zona Porto il progetto Wider e tanto altro ci fermiamo per qualche istante di pubblicità Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri poco fa alla regia è arrivata una telefonata per segnalare che in via Meta Auriglia 31A dove ci sono ben 25 appartamenti manca la tabella che indica la via e non c'è nemmeno un punto luce sono tantissimi anni che attendono questa segnaletica stradale molto importante immagino anche per eventuali soccorsi quando non si riesce poi la segnaletica è importante proprio anche per le emergenze e adesso onestamente è la prima volta che mi viene segnalata direttamente c'erano altri casi sulla quale siamo intervenuti li abbiamo risolti mi prendo lo sono segnato e provvederò a segnalarlo agli uffici competenti via Lazio sempre più disastrata ancora non è rientrata nessun elenco di strade da asfaltare ricordo al sindaco che anche le pulci hanno la tosse saluta Massimo via Lazio che ci segnalano via Lazio si può fare qualcosa per tutti quei ciclisti che anziché andare sulle ciclabili continuano a camminare sulla strada sino qualche multa in più da parte dei nostri vigili urbani visto che adesso puntate molto sulle piste ciclabili li facciamo transitare facciamo un'operazione di educazione all'utilizzo delle piste ciclabili due o tre messaggi per chiedere informazioni su questi bagni pubblici ne parliamo ormai da anni è possibile è possibile ma non solo è possibile è un dovere perché non si può accettare che una città come Fano non abbia i bagni pubblici è un impegno che ci siamo presi volevamo realizzarli entro quest'anno non ci siamo riusciti penso di poter dire che nel 2023 ci saranno i bagni pubblici nella nostra città bene si ritorneranno perché una volta esistevano ma oggi in quella posizione sottoterra non sono più idonei e non sono una soluzione ma avete già pensato pianificato abbiamo già pensato delle formule l'assessore ha già visto altre realtà in giro con cui ci siamo confrontati c'è già un piano delle risorse che occorrono ripeto l'obiettivo era quest'anno però oggettivamente stiamo portando tanta di quella roba e che non abbiamo la gente che riesce a stare dietro ai cantieri abbiamo 50 milioni di cantieri che devono partire sia per i problemi delle ditte per l'incaro dei prezzi ma anche perché ogni lavoro deve avere un interno dell'amministrazione che fa responsabile che lo segue quindi c'è inevitabilmente un rallentamento però è dovuto per le tante cose che riusciamo a portare nella nostra città che ovviamente la gente ancora non riesce a vedere ma poi è un po' come la valanga come man mano che cresce poi è sempre più visibile e nel 2023 ma anche quest'anno ripeto adesso dobbiamo partire 50 milioni di cantieri già finanziati già appaltati e nel 2023 ci sarà un'esplosione di tutti questi lavori si riferisce sia alla zona mare che al centro storico tutti i quartieri sono previsti interventi perché poi ci dimentichiamo ma in realtà c'è stata una forte attenzione anche nei quartieri periferici dagli spazi proprio adesso sabato scorso è stato inaugurato il nuovo giardino attrezzato di Rosciano penso a Carrara dove c'è stato fatto un bel intervento ne sono previsti altri interventi adesso dentro Fanno Sud interventi previsti a Ponte Sasso stiamo pensando anche di migliorare il centro sociale con altri interventi insomma c'è tanto tanto lavoro e tante risorse riuscite progetti riusciti a portare in casa poi ovviamente la gente questo non lo percepisce lo vediamo noi che siamo dentro però penso che nei prossimi anni saranno solo cantieri poi ci si lamenterà perché saranno disguidi però meglio avere qualche disguido in più e poi goderli negli anni successivi sentiamo chi c'è in linea buonasera 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 sindaco è qua che l'ascolta signor sindaco buonasera le volevo chiedere esiste un progetto per la zona ex zuccherificio inoltre dato che si deve combattere un po' l'inquinamento può esistere potrebbe esistere un progetto di una metro leggera pano urbino partiamo dell'ex zuccherificio sì allora sull'ex zuccherificio progetti veri non ce ne sono perché non dimentichiamo che quello è un'area privata anche in questi giorni ci sono lette delle notizie che io ho accolto in maniera favorevole perché quando ci sono nuovi proprietari che sono della nostra città sono un buon segno perché ci hanno degli interlocutori diretti però ovviamente essendo un'area privata i progetti li propongono noi possiamo dare un'indicazione però è inutile che sogniamo e diciamo di realizzare chissà che cosa poi se non ha una capacità economica sostenibile nessuno investe delle risorse quindi ci sarà un dialogo con la nuova proprietà ci sono delle idee che alcune sono state rese anche pubbliche ci sono delle opportunità di alcuni bandi che il governo le regioni mettono a disposizione proprio per aree come queste quindi possono esserci delle occasioni però ad oggi dire che c'è un progetto pronto la risposta è no cos'è quella montagnola al campo d'aviazione ma ci sono dei lavori in corso che riguardano il parco urbano sì allora intanto abbiamo già affidato c'è già la ditta pronta che deve realizzare il secondo terzo strage tra poco dovremmo appaltare i lavori della casa del custode quelle montagnole sono terra buona che abbiamo fatto portare da Sant'Andrea e da Vallato dove si stanno facendo dei lavori perché serviranno per la montagnola che dovrà essere realizzata per il parco nel frattempo adesso stanno facendo tutte le bonifiche qualche scheggia è stata trovata ah no ma sono scheggia di cose che erano piccole entità però ovviamente hanno fatto degli scavi più profondi dove sorgeranno lì c'era una caserma una scuola piloti da aeronautica queste sono tre zone che sono state fortemente bombardate non ci sono per fortuna trovati ordigni però qualche materiale innocuo ma che c'è quindi però questo è il lavoro che verrà ottimato a breve e poi partirà la ditta proprio per l'opera del secondo e terzo strage Sindaco un botta e risposta rotatore di Rusciano anche lì sono partiti i lavori anche su questo vorrei ricordare anche qui ho sentito il sindaco cresce il naso insomma avevamo detto che l'avremmo realizzato poi sui tempi scusateci le cose sono sono tante ma se ci prendiamo un impegno diciamo che lo realizziamo potrà essere sei mesi dopo ma il lavoro verrà realizzato qui sono ci vorrà qualche mese però sì perché è un'opera importante come vedete l'aria è grande ci sarà anche una pista ciclabile quindi sarà un bel un bel lavoro anche quella è un tema aperto da tantissimi anni insomma da quando quell'aria ha visto intensificarsi del traffico tanti discorsi ma nessuno è intervenuto e non perché non ci fossero le risorse perché in 30 anni le risorse per una rotatoria si potevano trovare noi abbiamo detto che l'avremmo fatto come tutta una serie di interventi a Rosciano che devo dire sono stati fatti perché Rosciano da quando sono arrivato nel 2014 se la guardiamo oggi è completamente cambiata con tutti gli interventi che sono stati realizzati per cui questa è una risposta importante sia per la sicurezza del tratto stradale sia anche per la comodità e il miglioramento del collegamento con i quartieri vicini Teatro Romano ci chiedono informazioni anche qua nelle scorse puntate di Primo Cittadino aveva parlato anche di una possibile apertura al pubblico nel periodo estivo ce la farete? lo confermo abbiamo già messo le risorse a disposizione c'è stato proprio i giorni scorsi un sopralluogo con la sovrintendenza perché non dimentichiamo che qua va sempre aperto tenuto un dialogo con la sovrintendenza l'obiettivo ovviamente qui ci sono altri saggi da fare c'è la nostra volontà a mettere ulteriori risorse per fare ulteriori saggi l'obiettivo è quello di renderlo visitabile ovviamente per piccoli gruppi alla volta perché essendo di fatto un cantiere ma di consentire anche quando ci saranno i lavori dei saggi per cui le risorse abbiamo messe i tecnici stanno lavorando l'obiettivo non dico giugno però per l'estate di consentire delle visite guidate per gruppi Cantiristica in zona Porto dove va avanti il progetto Wider? dagli ultimi tempi non ci sono novità quindi per quello che riguarda adesso dipende dal privato e invece quando sarà adottata? Fanno di una piscina olimpionica? Vanno avanti i lavori? Olimpionica mi piace deludere ma al momento non sarà adottata perché una piscina da 50 metri non ce la possiamo permettere in termini di gestione perché ha dei costi altissimi e oggi insomma adesso vediamo quando verrà aperta la nuova piscina da otto corsie quindi sarà più grande della si parlava della fine dell'anno? corretto salvo imprevisti insomma dovrei riconfermare queste date I tombini di Gimarra di fianco alla chiesa sono più alti della carreggiata quindi è necessario intervenire perché le auto devono andare a zizzag le chiedono informazioni anche allora questo l'abbiamo detto anche sugli eventi c'è fermento anche parafano dei Cesari anche se in realtà nei giorni scorsi diceva diceva proprio il nuovo presidente della Proloco che ancora è tutto da vedere bisogna stabilire se è possibile fare la corsa delle bighe in che modo poter organizzare gli eventi però insomma qualcosa si farà sindaco? sì la programma dei grandi eventi è già stata presentata ovviamente la fanno un fortune alcune iniziative sono già state programmate è chiaro che l'auspicio è quella di poter fare il grande evento perché è inutile che ci giriamo intorno è apprezzata piace se sarà possibile insomma poi su questo è l'assessore che ci sta lavorando e forse più di me potrà dare delle risposte più precise programmi invece per Viale Dante Lighieri? anche lì ci sono stati polemiche purtroppo qui ogni volta c'è un elemento nuovo lì ci sono due elementi che vanno tenuti insieme e sono uno consentire l'accesso ai mezzi pesanti sia per quelli che lavorano nel porto e lì c'è un flusso giornaliero di un certo numero di grandi camion sia anche per i mezzi della nettezza urbana insomma queste cose qua e dall'altro la vivibilità la sicurezza per pedoni per chi ci vive per i turisti quindi le due cose devono stare insieme per stare insieme inevitabilmente vedono alcuni sacrifici e alcuni sacrifici si chiamano alcune postazioni di parcheggio sulla strada adriattica che vanno ridotti stiamo ragionando che con il nuovo piano di nuove aree anche per poter parcheggiare per cui non posso anticipare perché è un lavoro inettinere però anche su quello faremo delle proposte però ecco la soluzione sarà questa che dovrà tenere i due elementi perché non è più andiamo a riqualificare anche il waterfront non si può continuare con una situazione come quella di macchina da tutte le parti gente che attraversa c'è anche un rischio poi finché non succede nulla va bene poi succede qualcosa tutti si scandalizzano e allora magari qualche parcheggio in meno io capisco che non è mai piacevole però ne trova vantaggio la qualità della vita e l'offerta di quel territorio ma traggono beneficio tutti quanti perché poi ci sarà anche più gente quando c'è più sicurezza c'è più decoro e più accogliente una zona ultimi messaggi per lei prego di essere molto breve allora intanto aggiornamenti sull'interquartieri chiedono per la variante di Gimarra abbiamo visto che il comitato contrario questa variante ha distribuito anche i volantini eccetera ci sono aggiornamenti progetti è possibile modificarlo insomma c'è stato dato l'incarico per la prefattibilità ovviamente come tutte le grandi opere trovano dissenso e consenso il dissenso ovviamente è sempre quello più rumoroso quello però la sensazione è che ci sia una forte richiesta comprensivamente nella città per la realizzazione di questa opera chiaro che è un'opera importante va realizzata tenendo conto di tutti gli impatti che ci possono essere con tutte le mitigazioni necessarie però questo è tutto prematuro perché ovviamente finché non arrivano gli elaborati sulla quale si è dato mandato poi qui c'è un ritardo perché c'era un impegno poi tra una pandemia nasce un'altra roba i tempi che passano era anche quello di fare un'assemblea con i residenti l'impiego che ci avevamo presi e anche questa la faremo adesso con l'arrivo dell'estate c'è più possibilità di fare anche riunioni partecipate adesso dal primo maggio poi abbiamo liberalizzato anche determinati comportamenti e certe regole restrittive quindi ci saranno tutte le condizioni anche per fare un confronto anche partecipato i San Petrini lungo il corso sono molto pericolosi infatti in alcune parti mancano il progetto di riqualificazione delle Terme di Carignano che fine ha fatto? beh allora su questo anche qui non dimentichiamo che sono private quindi c'è un nuovo una nuova proprietà che adesso ha iniziato a fare le analisi con il quale ho avuto un colloquio anche recentemente ci siamo sentiti al telefono ha chiesto degli incontri la nuova proprietà alla Regione per sciogliere alcuni nodi di competenza regionale noi abbiamo rimanifestato la nostra volontà di forte interesse perché riteniamo che le Terme riqualificate porteranno un beneficio straordinario e io ho visto il progetto non il progetto urbanistico di opera ma quello che è il piano ed è veramente importante e sono convinto che porterà molto molta gente ma soprattutto si rivolge ad un turismo dell'Europa del Nord che ha una crescita costante adesso al di là della crisi arrivata con la guerra per cui da parte della proprietà mi hanno rimanifestato la volontà di andare avanti aspettano alcune risposte all'incontro non c'è ancora stato adesso vedremo l'esito io ho avuto modo devo dire la verità anche di manifestare il nostro forte interesse anche al Presidente della Regione in un ultimo riconto recente e devo dire che ha manifestato interesse ha capito l'importanza che ha per il nostro territorio abbiamo un minuto la nuova gradinata dello stadio Mancini quando verrà realizzata anche qui tanti mi stanno si anche qui guardi adesso proprio oggi pomeriggio abbiamo avuto un incontro io il vice sindaco l'assessore allo sport con la proprietà rappresentanza del Fano Calcio abbiamo ragionato sulle strategie su quelle che sono le priorità perché ovviamente noi stiamo già lavorando su un progetto complessivo di riqualificazione di tutti i Mancini ovviamente non è che siamo in grado di fare l'intervento unico faremo degli stralci però la necessità non è solo quello dello stadio Mancini ma ci sono altre esigenze ci riaggiorneremo a breve per fare il piano di quelli che sono i nostri interventi però anche sul Mancini alcuni interventi a breve li faremo poi avremo modo di presentare anche i progetti e le tempistiche sindaco grazie per essere stato con noi grazie anche a tutti i telespettatori che come sempre ci hanno inviato tantissimi messaggi un'escuso per tutti quelli che non sono riusciti a leggere grazie e buona serata grazie e buona serata a tutti i telespettatori e grazie per le segnalazioni e le telefonate grazie a lei per la sua disponibilità un ringraziamento anche a Cristiana Guerra e Riccardo Sora in regia l'appuntamento per domani mattina alle 7 in diretta con Massimo Foghetti buona serata grazie a tutti i primi a presto